Mesi di allenamento, concentrazione e soprattutto determinazione per affrontare una grande impresa sportiva. Partirà domani da Fogimanna a Tertenia la 30 ore non stop a nuoto di Gabriele Catta. Dopo la sfida dei 52 km a nuoto e le 21 maratone in 20 regioni d'Italia, il 22enne di Monserrato è pronto per affrontare una nuova sfida in mare aperto. Una traversata di 100 km che si concluderà nella tarda mattinata del 4 settembre nel porticciolo di Marina Piccola a Cagliari. Si tratta del terzo evento sportivo benefico organizzato dall'atleta in memoria dell'amato nonno scomparso a causa della leucemia. L'impresa è associata a una raccolta fondi, il cui ricavato sarà devoluto a supporto dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Durante la traversata un team multidisciplinare monitorerà le condizioni fisiche e mentali del giovanissimo che con passione si impegna ad unire sport, ricerca e solidarietà.